eccoci qua amici altra puntata di Tarkov questa volta siamo su su ground zero non mi ricordo dove sono so che lì dentro ci sono mine antidonna ok ok ho capito dove sono penso di aver capito dove sono esci fuori da qualche parte che fastidio quando giro la visuale e mi incalpesta sul vetro ok o sono una squadra gigante o sono due team ok le cuffie sono giuste quanti passi però ce li sento come se fossero dietro accanto a me adesso sono dall'altra parte del palazzo male ora tutta la Cina sa che sono qua puntata poco movimentata rispetto all'altra questa volta ma stai scherzando beh stava scherzando il tizio grazie a tutti è uno scav per fortuna questo col tos dubito abbia altro nel giubbotto infatti anche questo tos allora dove stanno dove stanno i i cosi per la missione di di Brapor da qualche parte i piani superiori eh però quali sono gioci di macchina non diria no non diria no Ok Carichiamo questo Anche se penso sia molto vuoto come caricatore Dietro? Sì, dietro Toglio un VPO Ma sai che c'è? Te lo prendo Ok Pensavo di aver sentito cose Acqua e uno splint Qua anche cibo, buono E anche zucchero Dobbiamo andare lì all'unicredit Perché c'è il punto che ci serve Sulla Makarov E la prendo E anche la benda Dai, famo una corsa Favo una corsa di là dove ci serve Non mi ricordo più Cosa ci chiede Jäger Quali crutoni Ok Semi-missione completata Visto che siamo un po' nascosti Mangiamo e viviamo Qua quanto si pieno Meta caricatore Ok Mi sembrava un untar Niente Sono già passati Le prendo Le vendo in caso Ma possiamo già uscire di qua? Dimmi che c'è Emmercom Sì Sfigato Sfigato Sfigatissimo Non mi ha preso con Zero colpi Zero colpi mi ha preso Che sfigato All right Ci siamo fatti Un, due, tre, quattro scav Potevo leggere il numerino E un po' di equipaggiamento Un bel cecchinino Una pistolina Un caschetto Per l'altro Come backhand error Mi è cresciato il gioco Mi è cresciato il gioco Rieccoci Prapor ci ha regalato qualcos'altro Un SKS E delle cure Grazie Grazie Prapor Ok Ci ha tenuto tutto l'inventario Che abbiamo guadagnato Buono Buttiamo tutto a casetta Lo splint Ah no Ma ce l'ha lo splint Quindi chi se ne frega Via questo Via questo Ci teniamo questi Ah La missione di therapist La missione di therapist Si è completata Ok Traders Bandage Allo splint E un NACL Dai Completata Allora Shortage Tre saligua Marathon Beneath the streets Come scusa? Dobbiamo andare su labs? Mi hai appena dato una chiave di labs? Mi ha appena dato una chiave di labs Ma assolutamente no Che non vado su labs adesso Ma tu si pazzi Ah Ok Rifacciamo i caricatori E ci becchiamo nella prossima partita Sempre su gran zero Perché devo fare le altre missioni E eccoci Parte 2 alla riscossa Dove siamo? Uh Ok Ok So cosa voglio fare So cosa faremo oggi ragazzi Andremo in macchina Faremo un girettino in macchina Non esco subito Ma mi piazzo qua Nell'attesa della loro venuta FMJ Ok FMJ AK Va bene Lo accetto E se facciamo fuori qualche scavognolo Qua attorno E poi ce ne scappiamo Dai ma come dire che non c'è nessuno Allora lì sopra Dovrebbe esserci lì sopra O una mitragliatrice O il lanciagranate Ma si potrà che non c'è uno scav Non ho visto dov'è Però scappo perché ho completato una missione E adesso devo uscire 20 secondi Non manca molto 9 8 7 6 5 4 3 2 1 A casa Che culo All right Scav fatto Siamo usciti Pisi pisi Non c'è dato nemmeno il run through Un po' di loot l'abbiamo preso L'elmetto dell'untar Così in casa A magli estremi E' il metto dell'untar E' il metto dell'unto All right Via Questo lo possiamo mettere sul fucile Yes Ma guardate qua come lo stiamo moddando il nostro fucile Abbiamo anche i colpi di scorta Abbiamo anche i colpi di scorta Questo lo possiamo vendere Via 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 Riempiamo DPS Ricarichiamo con quello che è più carico DPS Ora Traders Andiamo da skier Supplier Abbiamo il tos E te lo consiglio Marathon Sightseeing Ischia ci dà un sacco di Un sacco di marker Easy money Ok Locate and obtain the Bison vs Undertaker Poster Use a camp Scav Bison Customs Qual è la Scav Bison Customs? Boh Non ho idea Non è che magari è lo scheletrone? Ah e ci sblocca ref così Va bene Ci serve l'armatura bianca Per l'armatura bianca Oh grazie terapista Per l'armatura bianca Io so che si va su woods Eeeh Precee wall Ok Si va su woods Andiamo ancora con la K Su woods Qua è rimasto un dollaro Sai che c'è? Prendiamoci 5.001 Ok E andiamo su woods Vediamo come è migliorata 0.20 Buono Mi piace fans Ora qua Questo fucile servirebbe un mirino Intanto lo ripariamo E' un mirino E' un mirino 1x30 Che è il mirino più scrauso che possiamo comprare Se no Eh si è il mirino più scrauso che possiamo comprare Però No mi fa schifo quello Non lo voglio usare Vendiamo il cap No cap No cap Ok Ehm Facciamo equipaggiamento basico Proprio basico 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 Andiamo di SKS Oppure no No andiamo girati Andiamo girati perché sennò ho paura Ok Che livello siamo? Ok livello 5 Siamo a metà E poi possiamo Possiamo iniziare con Con gli SCAV Andiamo di nuovo su woods A mezzogiorno Mangio pasta con tonno Ready Ci vediamo dentro Vai Speriamo in uno spawn Ottimissimo Per quello che dobbiamo fare È proprio Eh dai Urco Urcoligno Dobbiamo uscire Dobbiamo uscire ragazzi Dobbiamo uscire perché quel caricatore è niente male Quel caricatore è proprio niente male E anche quell'hexagon Però quel caricatore da 60 è la crema del cremino Grazie a tutti Grazie a tutti passiamo da qua che almeno siamo protetti dalla segheria non siamo protetti se qualcuno è sopra di noi ma lì? ah no era l'erbetta mi sembrava la sagoma di qualcuno quasi quasi faccio tappa dove mi ero fermato l'altra volta e avevo fatto il putiferio grazie a tutti però che era uno spot niente male se è abbastanza coperto dagli alberi e dalla fresca dalle frasche grazie a tutti ecco questo spot qua è il top mi sono nascosto un attimo più in alto perché mi stava chiamando mia mamma e niente andiamo al villaggino che magari incontriamo incontriamo cose che ci servono grazie a tutti non si dice di no allo stash sotterraneo vd40 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 ok mi aspettavo un altro vd40 a dire il vero però il sas mi sa che vale di più di questi 5001 hanno preso la macchina no no non ancora potrebbe essere la nostra chance di prendere la macchina anche se non è che è una missione voglio prenderla per abbassare il livello con con come si chiama con fence e tra l'altro spero ci sia uno scava almeno qua così da poter farlo fuori e uscire molto tranquillo troppo tranquillo uh il drill ma non so se mi serve a questo punto del gioco lo prendo fermometro grazie vale tanto pipì buono il pipì è niente male ah ma è il pipì pipì 762 cioè meglio molto meglio perché fa tanto danno soft point di cosa ok ok uno scavo ed è qua da noi ok fatto fuori spero avessi un'armatura migliore succo e mi mangio lo slicker col tellaccio carisma cosa c'entra il carisma questi li buttiamo perché non mi servono quei colpi e carichiamo questo dps o a pst tu cosa sei colpi a caso vediamo qua dentro va bene me la prendo traversiamo ok qua dentro è già entrato qualcuno ma stai scherzando curati subito quanto sei pieno tu? ok quasi pieno ti metto i tracer allora Allora il tizio mi stava Cecchinando Almeno stava cercando di cecchinarmi Famola lunga Ma sono venuti qua col BTR Dai meglio No non sporgiamoci Non sia mai che mi tappino in testa Perché l'ho visto correre in mezzo Furicani Li ho sentiti da dietro Però dietro non c'è niente 3, 2, 1 Via A posto A casa All right Due scav Mi ha devastato quello col non so cosa aveva Intanto curiamoci che è gratis Abbiamo guadagnato un po' di robetta Un po' di robetta Neanche troppo importante Magari i materiali da costruzione serviranno per lo stash Prima o poi Abbiamo guadagnato un rig Non un rig Sì un chest rig O no come si chiama Un giletattico Non so come si chiama in italiano il chest rig di preciso Magari è effettivamente quello Allora Questo è una gran win È una grandissima win quello Ok qua Via queste cose PP Ottimi La lionca All right Poi il sas Colpi Il drill Questo A chi lo possiamo mettere? AK74M Beh lo possiamo mettere a questo Però C'è già il mirino Quindi vai a casa Il caricatore vuoto Via la k Via il coltellaccio Le cure me le prendo Faccio 5-5 Poi prendiamo dei soldini Ok Io intanto sistemerò I colpi nel caricatore No Lasciamo gli eagle nick a casa Userò i figli FMJ Noi ci vedremo nella prossima puntata Io vi ringrazio Bella